Siamo con Cristian Sabia della Prologo di Altavilla Silentina. Anche quest'anno si svolgerà il classico appuntamento con la sagra del melone e della pizza altavillese. Sì, infatti anche quest'anno, dopo questa settima edizione, si terrà la sagra del melone e della pizza altavillese dal 10 al 16 agosto. Un appuntamento che oramai è diventato anche molto atteso e in cui partecipa anche tanta gente, non soltanto del posto ma anche dei paesi vicini. Sì, il nostro obiettivo infatti come prologo è quello di portare turisti ad Altavilla, quindi far conoscere il nostro territorio. E proprio per questo, questo è l'obiettivo principale dell'evento, della manifestazione. Infatti in questi anni abbiamo avuto una presenza forte, circa 15.000 presenze ogni anno, quindi un bel evento. La regina non è soltanto la pizza e il melone, ma ci sono anche tante altre cose che si possono gustare e anche delle serate di tranquillità e di serenità che si possono passare. Infatti in tutte le sette le sere ci sarà l'animazione per i bambini, gli artisti di strada, quindi i trambolieri, i mangiafuoco, le mascotte di Walt Disney. Ci sarà praticamente spazio per tutta la famiglia, quindi anche sempre tutte le sette le sere, liscio, latinoamericano, pizzica, tammoriata. Sarà un divertimento praticamente sette sere in totale allegria e gioia per tutti. E allora non resta che dare l'appuntamento dove e quando? Allora vi aspetto tutti quanti a piazza Don Giustino Maria Rossolello Cerrelli di Altavilla Silentina dal 10 al 16 agosto.